Buonasera a tutti, come va? Tutto bene? Io volevo solo dire che per me questa è una delle serate più importanti della mia vita, sicuramente perché essere paragonato degli artisti di questo livello qui sul palco e quelli che stareanno dopo per me è un regalo enorme che ringrazio tantissimo Roberto Neri, Claudio Togni, tutto lo staff di Ameno Clui Grazie di cuore Facciamo un pezzo, un primo pezzo, un pezzo di Taj Mahal, Hockey Talk Grazie a tutti 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 Grazie a tutti